Mi fa, ah sì sì, io mi ricordo di lei, sa lei, lei ha fatto la meglio gioventù, dico sì sì, che bella memoria, dico, eh no, mi è piaciuto molto, sa, dico, ah mi fa piacere che sia piaciuto, sa perché mi è piaciuto molto, mi fa lui, perché lei ha fatto la mia parte, io sono quel giudice che le ha impersonato, e mi sono venuti i brividi. Salve ragazzi e bentornati su VideoGiochiItalia.it, io sono Antonello Santopauro e questa è la rubrica delle videointerviste. Per chi non ci conoscesse, in questa rubrica abbiamo il piacere di intervistare tutte quelle personalità che si cellano dietro la lavorazione di un videogioco. Parliamo di attori, doppiatori, registi, illustratori, content creator, tutte quelle personalità che in un modo o nell'altro c'entrano con il mondo dei videogiochi, che tanto amiamo. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva, mi raccomando ragazzi, è fondamentale. Oggi abbiamo l'immensa fortuna di intervistare l'attore e doppiatore Roberto Accornero, che sicuramente molti di voi conosceranno, l'avranno visto in tantissime produzioni. E quindi iniziamo, buona visione! Roberta Accornero nasce il 9 marzo del 1957 ad Ivrea. Si avvicina al teatro fin da giovane, come scopriremo all'interno di questa videointervista. Molto attivo nelle produzioni cinematografiche e anche molto presente per quanto riguarda il mondo del legio. Ma prima di iniziare, ricordiamo che cosa ha doppiato Roberta Accornero. Roberta Accornero ha doppiato numerose pellicole cinematografiche. Lo ricordiamo nei panni dell'attore francese Benoit Paul Ward in Il Prezzo della Gloria, Kevin Durant in The Captive, Scomparsa, e Joachim Crowell in Cartoline di Morte. Per quanto riguarda i videogiochi, è stata la voce di John Kennedy e Michael Rooker in Call of Duty Black Ops, Brian Castaville in Spec Ops The Line, Cosmo Faulkner in Hitman Absolution e Chameleon in Spider-Man 2. Tra i vari ruoli ricoperti da Roberta Accornero, lo ricordiamo nell'indimenticabile ruolo del cinico Guido Geller in Camera Cafè o il ruolo del capitano dei carabinieri Aloisi nella serie Il Maresciallo Rocca. E quindi direi di iniziare con la prima domanda. Prima di iniziare, vi ricordiamo che, qualora voi foste interessati a leggere questa videointervista nel formato scritto, vi ricordiamo di passare sul nostro sito videogiocitalia.it. Trovate l'articolo in descrizione. Prima di iniziare, come ormai facciamo da parecchi mesi a questa parte, abbiamo irrobustito una collaborazione con i nostri amici di Voci Animate. Eccellenza del doppiaggio italiano. Ogni volta che abbiamo l'opportunità di intervistare un doppiatore o una doppiatrice all'interno della nostra rubrica, ci inviano gentilmente delle clip per quanto riguarda le migliori performance o comunque quelle più significative dell'ospite che abbiamo avuto l'occasione di ospitare, di intervistare qui sulla nostra rubrica. Oggi ovviamente queste clip sono dedicate a Roberta Cornero, io ringrazio ancora Voci Animate, quindi prima di iniziare con l'intervista, guardiamo insieme queste clip gentilmente concesse dai nostri amici di Voci Animate. Diamo subito un taglio a questa pagliacciata. Chi come noi appartiene al rango di capitano non può non rendersi conto se i segni vitali di qualcuno sono scomparsi oppure no. Ascoltami Logan, il mondo è sull'orlo di una guerra per la morte di Marvelous Ben. Davvero vuoi sporcarti le mani con altro sangue? Ho aggiornato le vostre istruzioni. Ora andate! Beh, ragazzi, spero che queste clip vi siano piaciute. Io vi ricordo di passare sul canale di Voci Animate, ma in generale di seguirli sui loro social, perché sono estremamente attivi per quanto riguarda gli eventi sul doppiaggio in tutta Italia. E quindi se amate questo settore non potete perderveli. Detto questo, io direi di iniziare con la prima domanda, che come dico spesso è piuttosto scontata, ma comunque è necessaria per conoscere i primi passi dei nostri ospiti. E quindi ti chiedo, Roberto, come ti sei avvicinato al mondo della recitazione e del doppiaggio? Molto praticamente il doppiaggio a me non è mai piaciuto. Però ho un senso del dovere, poi nel frattempo mi è capitato, insomma, di mettere su fare e disfare delle famiglie, per cui diciamo che ho dei doveri. In mancanza di altri lavori, lo confesso a costo di deludervi, però poi magari cerco di recuperare, diciamo che un po' più sul serio il doppiaggio l'ho fatto dai 50 anni in su, nel senso che l'avevo già fatto all'inizio, ma essendo nell'ambito dello spettacolo una delle poche attività, diciamo, industriali, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sì, che quando cominci, se sei nel giro, fai praticamente solo quello. Allora c'erano dei colleghi che quando abbiamo cominciato si sono dedicati a quello, hanno fatto la cooperativa qui a Torino, sono entrati in uno o due giri e hanno fatto quello. Magari si sono comprati due o tre appartamenti, però facevano solo quello. Io, uno, perché il doppiaggio non è una cosa istintiva, non è una cosa naturale, diciamo che fa più parte, proprio antropologicamente, dell'uomo il teatro, il teatro sotto tanti aspetti, quindi la recitazione, insomma tutto quello che vuol dire teatro, da lì discende tutto il resto. Cominciare dalla danza intorno al fuoco, da raccontare storie in una comunità, in una coine, da raccontare delle cose che appartengono a chi le rivive, chi le racconta e a chi ascolta, se no è folklore. Ho studiato un po' di storia del teatro, ho cercato di laurearmi, ma ahimè, quando ho cominciato a dare degli esami di storia del teatro, a un certo punto però è successo che mi sono messo anche a lavorare, ho cominciato a lavorare, mentre ero all'università e si è creata una situazione molto imbarazzante, il professore di storia del teatro mi ha dato del lavoro, cioè Renzo Morteo, e dopodiché eravamo in un piano un po' strano, quando sono tornato a dare un esame con lui, eravamo tutti e due imbarazzati, lui non mi voleva far fare brutta figura, io non volevo fare brutta figura, e poi c'era il problema dell'analisi e della sintesi, quando fai l'attore devi sintetizzare, cioè devi studiare, capire e poi devi restituire, devi sintetizzare, quando vai dai un esame, non so, su Chekhov, su Mayakovsky, devi analizzare, devi fare l'operazione opposta, quindi ero veramente, poi io, dei pesci, molto in conflitto, non sapevo che pesci pigliare, e diciamo che ho cominciato un po' a vacillare, poi mi ero abituato a avere tutti i 30, 30 lode, quando ho cominciato a lavorare non riuscivo più a tenere quel ritmo lì, ho pagato un po' di tasse fuori corso e alla fine mi sono fermato, ho dato sei esami, tutti i 30, 30 lode, tre di storia del teatro, con questo mio amatissimo professore Gian Renzo Morteo, che è quello che ha importato, che ha inventato, ha importato in Italia, traducendo per Inaudi il teatro dell'assurdo, quindi Ionesco, Tardieu, era un grande specialista, però era uno molto intelligente, che sapeva che lo spettacolo è dappertutto, infatti voleva sapere se tu sapevi dove c'era lo striptease a Torino, perché lui c'era l'avance spettacolo, lo striptease c'era ancora a quell'epoca, in un teatro che si chiamava Alcione, vicino a Portapalazzo, poi c'erano tantissimi cinema negli anni 60-70, e c'erano tantissimi teatri, ora la situazione è molto cambiata, ahimè, non solo i teatri sono in grande crisi, ma questo si dice sempre, anche il cinema lo è, ed è un peccato che siamo tutti un po' costretti, e anche un po' pigramente, a usare le piattaforme, non è la stessa cosa vedere un film sul computer, anche sul super quello che vuoi, a casa fai il Cineforum, però in una sala è diverso, per il semplice fatto che sei lì, con una concentrazione diversa, e condividi un'esperienza con delle altre persone, quindi bisognerebbe fare uno sforzo, e scegliendo, andando a vedere dei bei film, andare al cinema. Divago molto, quindi mi sto dimenticando, ah, come mi sono avvicinato dal doppiaggio? Allora, nella mia tormentata carriera, sono stato fortunato, ho avuto molte occasioni, e le ho cercato di cogliere tutto, però dicevo, quando i miei colleghi si cominciavano a pensare al futuro, molto quadrati, e molto con i piedi per terra, dicevano, bene, facciamo il doppiaggio, questo qui si guadagna, boh, io no, un po' perché non mi sembrava di saperlo fare molto bene, e poi perché volevo fare altro, ho fatto di tutto, ho fatto il teatro che dovevo fare, all'epoca ho fatto del buon teatro, e poi ho cominciato, anche lì con un po' di fortuna, a fare la radio, radio Rai, la prosa in Rai, e quindi erano nell'ufficio scrittura della Rai, la Rai di Torino è un grosso centro di produzione, probabilmente è nata qui la radio, infatti il palazzo è preservato dalle belle arti, perché, e sì, ci sono degli studi storici, e fino a un po' di tempo fa, si produceva anche molti radiodrammi, molta prosa, oppure, comunque c'erano molti attori dentro la radio, ora non ci sono più, perché è stata smantellata, l'unica cosa che poteva restare, distinguerla dalle radio private, adesso non la distingue più, e adesso ci sono parole, musica, messe così a caso, una volta invece c'era moltissimo la presenza degli attori, ed è stata una delle cose più belle che ho fatto, trovo che la radio sia molto più vicina al cinema, di quanto sia la televisione, perché sono dei mezzi più alti, dove c'è più spazio per la fantasia, e per l'emozione, la televisione lascia pochissimo spazio a te, ai tuoi ritmi, alle tue, insomma, e il riscontro che hai con lo spettacolo, perché dico questo? Perché ho fatto tantissima radio, quando la radio si è stata smantellata, proprio per motivi politici, economici, insomma vari, mi è mancato un filone, perché facevo teatro, facevo televisione, facevo radio, ma la radio aveva una sua continuità, e mi sono dovuto rivolgere al doppiaggio, e diciamo che ho cominciato, perché tutti gli altri colleghi erano già inseriti, e sono andato in uno studio a dire, io sono un attore, qualcuno si ricordava, perché avevo fatto qualcosetta all'inizio, e però diciamo che sono dovuto andare soprattutto a Milano, a Stato Torino, e poi ho fatto quello che altri miei colleghi avevano fatto 20-30 anni prima, e in 50 anni mi sono messo, ora ne ho 65, non è che sto a contarli proprio, e quindi diciamo che da quel periodo lì, dei 50 anni, poi non ho più smesso, e il doppiaggio è stato necessariamente, ovviamente tu dici, se non ti piace perché lo fai, e bisogna farsi le piacere le cose, e all'inizio andavo a Milano facendo turista, scoprire i ristoranti, poi ogni tanto facevo qualche turno, poi ho capito che non era motore di tizio, e non potevo, insomma dovevo anche poi mettermi in quadro, quindi ho cominciato a portarmi anche qualcosa da mangiare in treno, perché io vado con la bicicletta sul treno, faccio bici più treno, è il modo migliore in assoluto per muoversi in città, dimostrato che sotto un certo numero di chilometri è il mezzo più veloce, scioperi, cose varie, pioggia, inverno non temo nulla, una volta mi ricordo che sono caduto nella neve, e avevo i pantaloni bagnati, sono entrato in studio, ho dovuto toglierli, ma tanto sai, nel studio del piaggio non ti vedono in molti, quindi non è un problema, l'ho messo sul termosifone, e c'era Mario Zucca, che faceva sempre delle battute molto salaci, sempre un po' cattive, beh non gli è venuto in mente di fare nessuna battuta, l'ho visto in mutande davanti al legio, invece in questi giorni a Torino, mi è venuto in mente perché arrivo e mi tolgo la camicia, perché pedalo da qui a 9 km che c'è la Videodelta, arrivo zuppo, e lì mi metto a torso nudo, ma anche lì c'è un po' di aria condizionata, non c'è l'aria condizionata, perché non tutti gli studi ce l'hanno, è un mestiere dove si suda, per dire che ci si può anche divertire, e quindi dicevo che da qui 15 anni in poi, un po' ingranato, io non sono mai sicuro di me, contento, convinto, che funzioni, però sai un po' per volta, un po' di qui, un po' di là, poi ho sempre avuto questa voce un po' più giovane della mia età, per cui… Quelli che hanno la voce così, che parlano così impostati… Lo facevano già quando avevano 30 anni, adesso con l'età mi è venuta una voce un po' matura, e sono molto affortunato, perché in realtà posso ancora doppiare dei personaggi più giovani della mia età, cosa che faccio, anzi, di solito non mi danno i 65 anni, mi danno roba più così, e va benissimo, e quindi diciamo che sono contento, poi nel frattempo ho ripreso un po' di televisione, perché la ruota gira, insomma, queste cose vanno e vengono, e quindi non ho mai smesso di fare anche il resto, purtroppo la radio non c'è proprio più, però ci sono gli audiolibri, stanno cercando di rifare un po' la radio di una volta, ma non sanno assolutamente cosa sia, anche perché aveva dei costi molto alti, tanti attori insieme in studio, tanti, le prove, la registrazione, poi dei begli studi, grandi, grandi con le scale di marmo, di legno, le porte, lo studio piccolo per fare gli esterni, perché deve essere piccolo, la ghiaia, insomma un mondo meraviglioso, che si può sentire su Rai, Radio Tec e Te, per esempio, sto parlando della radio, ogni tanto la radio ripropone, su YouTube c'è tanto materiale, c'è tutto un materiale che va riscoperto, e che non ti mai, oggi sentivo per esempio su Radio Tec e Te, la lettura integrale di Viaggio in Italia, di Guido Piovene, negli anni 50, Guido Piovene è grande scrittore, ha fatto un viaggio in Italia, un po' come Mario Soldati, e racconta delle cose, oggi c'era una puntata sull'Umbria, comunque voglio dire, c'è un patrimonio, e nel cinema passato, e nella radio passata, adesso anch'io sono un po' archiviato lì, e per cui faccio un po', penso al mio passato, e vivo questo presente, che il presente adesso è fatto molto di doppiaggio, ma non è l'unica cosa. Qual è il ricordo più intenso legato alla tua carriera da attore e doppiatore? Ci sono alcune cose, una cosa mi è rimasta impressa, a parte che io ho una memoria scarsa, per cui le cose vanno un po' ripescate, devo andare a guardare, ah sì, ho fatto quello, allora mi è venuto in mente, però c'è una cosa che ricordo con certo piacere, io ho fatto una piccolissima parte in un film che si chiama Un film che doveva essere una serie per la televisione, poi c'è stato un qualche fraintendimento produttivo, c'è stato un cambio in Rai, e Marco Tullio Giordana, che era il regista, ha deciso di far diventare La meglio gioventù, che era una serie di film che durava sei ore in tutto, l'ha fatta diventare un film, e l'ha portato a Cannes, dove avevano avuto, a Parigi forse anche, che ha avuto un grande successo, diciamo che è stato prima negletto dalla Rai italiana, lui è andato a raccogliere questi successi in Francia, vabbè comunque io ero lì in una scena, nella Meglio gioventù, che è un'educazione sentimentale, ed è un romanzo storico dell'Italia, tra gli anni 60, 70 e 80, e ho fatto, erano tutti fatti storici, con alcuni personaggi romanzati, ma tutti con degli appuntamenti, che erano assolutamente storici, uno di questi era il primo processo, avvenuto, mi pare, negli anni 70, in cui i malati di un manicomio, era il periodo della legge Basaglia, in cui i manicomi si cominciavano a chiudere, e il concetto di follia, di matto, veniva messo in discussione. C'era un libro che è stato scritto, pubblicato dai Naudi, il cui titolo è Portami su quello che canta, che fa venire i brividi, perché adesso quello che canta, Portami su, era quello che diceva un primario, psichiatra, all'infermiere, per andare a prendere sotto sotterranei, uno di quelli che erano rinchiusi, Portami su quello che canta, gli dava fastidio, e gli faceva l'elettroshock. Questo libro ha fatto sì che, sia stato istituito un processo, dove per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana della Giustizia, i cosiddetti malati di mente, sono stati ascoltati come parte lesa, come testimoni, come parte civile. Tutto questo era dovuto a, come dire, alla lungimiranza, alla sensibilità, all'intelligenza di un giudice, che io ho impersonato. Quando l'ho impersonato, io non sapevo come si chiamasse questo giudice. Sono andato lì, avevo un giorno, a volte avevo anche un po' di spocchia, per cui, uno che magari ha cominciato facendo dei film da protagonista, poi si trova a andare lì, a fare solo un giorno. Insomma, vabbè, però Marco Tuglio Giordana, c'era Lo Cascio, c'era tanta bella gente, ero contento, c'era Adriana Asti, eravamo nell'ex tribunale di Torino, che è stato usato molte volte per fare, è sempre un vero tribunale, quando è stato dismesso, ci hanno girato molti film. Io facevo il giudice, avevo il martello in mano, e Marco Tuglio Giordana è un regista che si prende molto sul serio. Io ho l'abitudine di scherzare, a volte un po' troppo, a volte un po' fuori luogo. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare, la mia scena e tutto, poi quando lui ha detto stop, va bene, io mi sono permesso, ho fatto un martello in mano, di fare stop, va bene, insomma, una roba che tu, su un set normale, nessuno avrebbe detto nulla. Quando sono tornato a casa, mi ha telefonato l'aiuto regista, mi ha detto, guarda che Marco Giordana c'è rimasto molto male, se l'è presa molto, sembrava una mancanza di rispetto, e dico, va bene, croce sopra. Non era il primo film che facevo con lui, sempre, un giorno solo, però ho fatto il processo Pasolini, dove facevo un avvocato, anche lì anni 70, sempre cose molto interessanti, il processo Pasolini, quindi la ricostruzione del caso Pasolini, con tutti i misteri sulla sua morte, eccetera, non risolti. E così finì quella giornata mia, nella meglio gioventù, il film è grandissimo successo, adesso trovi il DVD, successo internazionale, eccetera, molte persone, ah ti ho visto fare giudice qui e là. Due o tre anni dopo, ero in una serata yoga, ma una serata di dove si mangiava, c'era una presentazione a casa di una signora, che ha sempre fatto degli incontri, una signora molto amata, da quelli che la conoscevano, del giro yoga a Torino, ero capitato lì, c'erano tante belle persone, mi si avvicina un signore piccolo, magro, minuto, una meraviglia, un signore anziano, con una fetta molto magro, con una bella fetta di torta in mano, mi fa, ah sì sì, mi ricordo di lei, lei ha fatto la miglia gioventù, dico sì sì, che bella memoria, dico, eh no, mi è piaciuto molto, dico, ah mi fa piacere che sia piaciuto, sa perché mi è piaciuto molto, mi fa lui, perché lei ha fatto la mia parte, io sono quel giudice che lei ha impersonato, e mi sono venuti i brividi, ho scoperto che questo signore si chiama Antonello, scusami, Venditti, Antonio Venditti, adesso sto facendo la mia memoria, facci lecca, perché ho conosciuto poi il figlio, che si chiama Marco, comunque, il giudice Venditti, e ho scoperto che non solo era stato lui a fare quello, ma lui ha introdotto il servizio civile in Italia, alternativo al militare, c'era un momento, forse tu non hai avuto tempo di apprezzare, che il servizio militare era obbligatorio, 12 mesi, bisognava andare, cioè facevi la visita, tranne che non avessi, che non so, fossi orfano, malato, storpio, dovevi farlo, io sono stato fortunato, avevo un piccolo certificato da ragazzo, ho avuto qualcosa al cuore, non ce l'avevo più, però diciamo che c'era esuberanza di leva, e non ho fatto il militare, l'ho fatto poi facendo maresciallo Rocca, ma lì mi pagavano meglio, e non avendo fatto il militare, ah ecco sì, Venditti si è inventato il servizio civile, l'ha portato lui in Italia, poi un mio amico dell'elementare, che è diventato avvocato, mi ha detto che Venditti è un maestro, un guru, proprio una figura di riferimento, poi ho scoperto che adesso era in pensione, ha scritto una serie di libri, interrogandosi su proprio, lui è molto credente, molto cattolico, e esperto di musica, e ha scritto dei libri sull'importanza, cioè sulla difficoltà per un uomo di giudicare gli uomini, cioè insomma temi, quindi sentirsi fare i complimenti da uno così, ecco, diciamo, questo è stato un bel momento, quindi non tanto quando fai le cose, ma quando le cose che fai hanno un effetto, mi sono sempre posto il problema della responsabilità, con questa faccia, mi hanno sempre fatto fare medici, i psichiatri, i giudici, i avvocati, all'inizio facevo anche i personaggi positivi, adesso si sono accorti che invece sono più probabilmente cattivi, non mi fanno vari cattivi, c'è un po' sta volgarità, o sei buono o sei cattivo, non puoi essere uno tormentato a metà, no, è troppo complicato, facciamo i buoni che le guardie e i ladri, comunque cosa volevo dire, che ho sempre sentito questa responsabilità, alla fine tu quando fai le cose nazionali popolari in televisione, ci sono persone che ci credono, addirittura una volta una conferenza stampa di una cosa che si chiamava Camici Bianchi, una roba orribile, Rete 4, Camale 5, non so, era venuta una, vengono alle conferenze stampa alcune persone, alcuni sedicenti giornalisti, diciamo che se c'è il buffet viene più gente, se c'è dopo alle 12 l'aperitivo, e c'era una giovane giornalista, ragazza, che dopo che abbiamo spiegato i vari personaggi, c'era, non so più chi c'era, comunque erano alcuni attori, e io facevo lo psichiatria, ognuno aveva il suo, io facevo il primario di psichiatria, questo prima della mia gioventù o dopo, non so, comunque non mi ricordo, e mi è venuta a chiedere dei consigli di psichiatria, allora dico, ma io ho detto, qua c'è qualcosa che non va, se una che viene qui, per scrivere su un giornale, cioè una giornalista che si occupa di televisione, viene a me, che faccio l'attore, e che sono lì a chiedere una cosa, c'è qualcosa che non ha funzionato, comunque, per dire al di là di questo, che è un po' il paradosso, che comunque bisogna stare attenti a quello che dici, a volte le sceneggiature sono scritte di corsa, sono pagati male i sceneggiatori, perché per motivi che il produttore scrive lui, e poi trova degli schiavi che devono scrivere, però stando entro certi paletti, quindi la creatività figurati, diciamo appunto, anche lì c'è una componente industriale, che non è sempre artistica, diverso è il film d'autore, ma nella televisione, ahimè, c'è molto conformismo, molta paura di sbagliare, e molto drenaggio di risorse economiche, che ha sfavore dei quelli più deboli, con meno potere contrattuale, siano essi sceneggiatori, scrittori di dialoghi, attori, eccetera, perché dico questo? Ah, per il senso di responsabilità, quindi mi piace quando una cosa può funzionare, insomma, ci metti del tuo, ci metti dell'intelligenza, fai pensare, fai fare delle domande, purtroppo conformismo c'è spesso, in radio si era un po' più liberi, e insomma è più difficile, più ci sono soldi e più sei imbrigliato, per quello le opere prime, i ragazzi, guardo con molta simpatia tutte queste situazioni, perché c'è la possibilità di fare un guizzo, e di non essere sempre un po' col cervello addormentato, cosa che non dovrebbe mai succedere. Ah, per il doppiaggio invece ti posso dire una cosa intensa, che è stato recentemente un film israeliano, su un padre, già di una certa età, che ha un figlio, un padre e una madre, ma sono separati, e hanno un figlio autistico, un figlio autistico sui 20 anni, una cosa così. Allora, quando, almeno dovevo fare il protagonista, questo padre, è un film straordinario, si chiama Here We Are, noi due, una cosa così, è uscito qualche giorno nei cinema, poi usciranno, ho avuto dei premi, eccetera. Quando, anche io, la mia ingenuità, questo ragazzo, che faceva il ragazzo autistico, lo faceva così bene, che mi è venuto un ingenuo dubbio, alla mia tenera età, dice, ma, c'è un dubbio che non ha senso, perché, se uno fosse autistico, cioè, essere se stessi è la cosa più difficile, che ci possa essere davanti alla macchina da presa, quindi, non avrei neanche dovuto farmi la domanda, però era talmente bravo, nella sua semplicità e credibilità, che mi sono fatto questa domanda, poi sono dovuto andare a guardare su internet, ovviamente, un attore bravissimo, perfettamente, cioè, vuol dire, rientrare, in possesso di tutte le sue facoltà, beh, molto spesso le persone autistiche hanno delle facoltà in più, capacità di calcolo, di risolvere certi problemi, e di rimanere incastrati in altri. Comunque, questo film mi ha toccato, perché sono padre o due figlie, tutte le volte che ci sono delle situazioni di figlie, per esempio, in un'altra cosa mi è piaciuta molto, era La Tregua, che su Netflix, dove faccio il protagonista, è un film belga, e il primo, una serie belga, con due stagioni, e la prima serie è completamente belga, perché con Netflix, si sono un po' scatenate le televisioni dei vari paesi, non so se avete visto, ci sono dei prodotti molto interessanti, in tutta l'Europa, e qua loro erano molto orgogliosi, perché di solito i belgi, entrano nelle coproduzioni francesi, invece qua ero tutto belga, girato nelle ardenne, personale, e mi hanno fatto fare sto protagonista, più giovane di me, di una ventina d'anni, mi sono trovato, però anche lui, più pelato, pelato come me, forse mi hanno preso per quello, mi sono trovato benissimo, è un ispettore di polizia, che ha dei problemi, proprio, tanto è separato, anche lui, anche io sono separato, c'è la figlia, e poi va in un paese, dove succede, in un villaggio, dove c'è una serie di episodi, che coinvolgono anche lui, psicologicamente, quindi c'è un parallelo, un flashback, lui è poi in terapia, se non l'avete visto, potete anche guardarlo in originale, non per la mia voce, però ve lo consiglio spassionatamente. Come abbiamo detto all'inizio, sappiamo che hai doppiato John Kennedy in Call of Duty, o comunque anche Korbaciov, trattantosi di personalità storica, all'interno di un contesto videoludico, com'è stato doppiare personaggi così importanti, e in generale anche un brand così storico, e blasonato, come quello di Call of Duty? Guarda, quando hai qualcuno di importante, diciamo che hai qualcuno realmente esistito, in un certo senso è meno difficile, non devi inventare, non devi fare delle scelte, perché a volte più che inventare, si tratta di fare delle scelte, cioè essere né di qua né di là non aiuta, non passa, se tu vuoi comunicare, trasmettere qualcosa, magari è la scelta sbagliata, però tu ti devi prendere la responsabilità di dire, vado in quella direzione, dico quella cosa, faccio quella cosa, sono quella cosa. Quando un personaggio è realmente esistito, hai qualche aggancio in più, non erano molte le battute, non c'era molto da fare, diciamo che c'era un certo mood, dentro cui essere, e ovviamente avevo dei ricordi, avendo visto molte, Gorbachev ero già in grado di avere una capacità di discernimento, Kennedy l'ho visto nei filmati, come hai detto tu, sono personaggi iconici, e quindi non mancano i riferimenti, naturalmente non mi sognerei mai di imitare nessuno, non sono capace, non mi piace, ci sono gli attori bravissimi, che sono molto mimetici, e io un po' non è la via che preferisco, non è nelle mie corde, preferisco imitare uno che vedo per strada, insomma, comunque cerco, comunque al di là di questo, ci sono dei riferimenti, quindi tutto sommato, diciamo che sei più, sei più su un binario, con dei personaggi veri, che su altri che ti dicono, ma questa è una situazione fra 8 mila anni, quello è fatto metà di carne, metà di peli, metà cyber, è più difficile avere una fantasia su quello, che tipo di voce, ma poi è buono o cattivo, insomma, si entra in mondi un po' indefiniti, e per me è un po' indefinibile, confesso, una certa estranetà, per cui, che secondo me giova, perché essere troppo dentro le cose, non è detto che sia sempre, cerco di portare, un po' mi riferisco anche, pezzi miei, pezzi, pezzi, cioè bisogna ispirarsi all'esterno, non all'interno. Durante la tua carriera, qual è stato il personaggio più difficile da doppiare, e a quale sei più affezionato? Ecco, adesso che mi parli di difficoltà, a volte qualche difficoltà, vabbè, però sono difficoltà che quando superi ti diverti, mi viene, me ne ricordo uno che dovevo fare con l'acqua in bocca, perché non so come, ma se l'avevano fatto, sai ti fanno sentire l'originale, noi a volte ci ispiriamo, a volte gli originali sono un po', non sono, cioè i parametri non sono sempre gli stessi, a volte ci sono dei grandi attori, a volte sono un po' di servizio. Ce n'era uno, non so se era, c'era uno, insomma dovevo farlo con l'acqua in bocca, mi veniva meglio, cioè dovevo parlare con l'acqua in bocca, così, però è stato difficilotto, ma divertente, non so quale fosse il videogioco, ma è una cosa di un paio di anni fa. Dunque, il più difficile, il più affezionato, il problema è il singolare, un determinativo. Sicuramente non ho una classifica, non sono uno da classifica, o se le faccio possono cambiare continuamente. ho avuto molti momenti di affezionamento, pochi sul doppiaggio, più forse in altri momenti, ma pochi in generale. E poi, però ripensandoci, una certa difficoltà nel doppiaggio di un, in vis-à-vis, una serie girata in un, ambientata in un carcere femminile, spagnolo, le carceri private, ho scoperto che esistono le carceri private, cioè vengono appaltate a delle società, delle carceri. E' una cosa che c'è in Italia, no per fortuna, c'è in America, e c'è anche in Spagna, e forse anche da altre parti. E' un sistema, come tu appalti la potatura degli alberi, una società privata, appalti le carceri. Immagina che cosa può succedere, non succedere, se non c'è un controllo. Quindi, è materia di, per sordidi, è morbosi, morbose serie. So che questa è, sull'onda di un'altra Orange, qualcosa che, ha avuto un certo successo, che io non sapevo assolutamente, quando mi hanno proposto, ci sono delle cose che conosco solo perché me le propongono, ma non sono uno spettatore, e sono diventato uno spettatore di questo vis-à-vis spagnolo, e c'era il direttore, il medico del carcere, che è quasi una caricatura del male, la perversione, con una certa freddezza e glacialità, le ha fatte proprio di cotte e di crude, ed è un attore argentino, con una voce più bassa di questa, così, parla così, ma non so perché me l'hanno fatto fare, io non ho fatto la voce, non sono capace di abbassarla troppo, l'ho fatta più o meno come riuscivo, ha avuto un enorme successo, e devo dire che, appunto, nato al principio con un po' una sfida, una difficoltà, in realtà, e piccolo aneddoto, una volta, due anni fa, ho portato mia figlia a Napoli, per sottonatale, e siamo andati a Napoli, poche pizzerie puoi prenotare, quelle più fighe, alla fine devi metterti in coda, ti metti in coda, aspetti mezz'ora, da Ciro Oliva, che è un ragazzo, credo più giovane di te, avrà la tua età, quanti anni hai? Ecco, no, è più giovane di te, ne dimostravi di meno, un po' meno di te, che è già una star, a Rione Sanità, Ciro Oliva, e noi abitavamo, abbiamo un bel e brextalli vicino, ci mettiamo in coda, e poi riusciamo, ci sediamo, e dopo un po' che parlo, un cameriere mi conosce per qualcosa, poi arriva Ciro Oliva, che non mi riconosce, perché si vede che non guardava tanto la televisione, eccetera, però viene fuori, in qualche modo, la voce, ma tu hai doppiato Sandoval, in Vis a Vis, mamma mia, mi ha fatto una festa tremenda, e mi ha dato su un muro i telefoni, dice domani non fai la fila, passi da dietro e mi telefoni, quindi questo, questo Sandoval, che su Netflix, provate a Vis a Vis, mi ha fatto molto piacere, perché ho fatto un figurone con mia figlia, e il giorno dopo, lei si divertiva moltissimo, siamo passati da dietro, dalla cucina, abbiamo aspettato, credo, uguale, però l'impressione era di essere dei privilegiati, e di averlo fatto grazie a, beh, insomma, sono queste cose qua, che sono divertenti e piacevoli, e invece per quello a cui forse sono più affezionato, te l'ho già detto prima, direi la tregua, questo Johan Blanc, protagonista di queste due serie, ce n'è anche un'altra inglese, che si chiama Wanderlust, ed è su una coppia di intellettuali che decidono di fare gli esperimenti sulla loro vita sessuale, di coppia, insomma, sai la coppia aperta, ma io vado lì, e tutto diventa molto teorico, ma la cosa bella è che hanno dei figli, quindi si creano anche dei gap generazionali, ed è come tutte le cose inglesi, molto ben recitata, gli inglesi hanno il teatro, fin da quando sono nati, da piccoli, lo fanno molto sul serio, e non ho mai visto un attore inglese che non recitasse da Dio, ho avuto anche la fortuna di lavorare con alcuni di essi, e ho notato la dignità, per esempio loro fanno anche la pubblicità, fanno anche le comparse, ma lo fanno in un modo ben diverso, cioè fanno le comparse mettendo del loro, nel senso che tutto è di grande dignità, humor, leggerezza, hanno un libro di diritti del sindacato, spesso così, che ti ti attradurlo e provare a pubblicarlo, noi adesso stiamo cercando, in Italia non c'è il contratto nazionale dell'audiovisivo, gli attori liberi, ha il contratto dei lavoratori, le troupe ce l'hanno, ma questo per anni, e adesso, proprio in questi mesi, io sono abbastanza attivo, dal punto di vista sindacale dei diritti, perché è una cosa importantissima, essere consapevoli, perché sennò andiamo tutti a farci, ma tutto si deprezza, se non sei tu il primo a sapere, quali sono i tuoi diritti, i tuoi doveri, e niente, gli inglesi sono un bel punto di riferimento, ma anche tutto il mondo francese, mi piace molto doppiare le commedie francesi, ho fatto anche un po' di adattamenti, ecco un altro personaggio che mi piace molto, è Benoit Paul Verde, quello di Dio esiste, vive a Bruxelles, l'ho doppiato in un paio di film, uno si chiamava Podium, un film per niente italiano, perché era molto locale, però ho scritto l'adattamento, mi sono fatto un bel mazzo, perché c'era tutta una serie di riferimenti francesi, che bisognava tradurre, però modi di dire, mi sono divertito moltissimo, dovevo fare solo l'adattamento, poi non trovavo il protagonista, ho detto, ma prova a farlo tu, e mi sono trovato molto bene, quindi quel Podium lì si trova in DVD, e poi l'ho doppiato un'altra volta, in un film che racconta un fatto vero, quando due balordi, quando è morto Charlie Chaplin, hanno trafugato la salva, e hanno chiesto il riscatto, e questo si chiama Il prezzo della gloria, una cosa così, e anche lì c'è quest'attore belga, che è un comico, molto, insomma, ancora bene, in quei due casi lì, l'ho doppiato io, di solito l'ho doppia Mino Caprio, ma per motivi distributivi, passata da Torino, dalla ODS, e lì sono riuscito a, insomma, me l'hanno data, quindi vi ho detto un po' di cose sparse. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, ma prima di andare, vorremmo conoscere un curioso aneddoto, sulla tua carriera. Quando ero più giovane, facevo più teatro, facevo teatro, e mi è capitato di fare, come a tanti, Trappola per topi, di Agatha Christie, facevo il protagonista, non vorrei fare troppo spoiler, comunque, il poliziotto, che sembra che debba indagare, poi in realtà si rivela implicato, comunque, al di là di questo, c'è una scena clou, dove il protagonista, sottoscritto, è di profilo rispetto al pubblico, e il pubblico vede, lui è la vittima, quella che potrebbe essere una vittima, la giovane donna, lì la protagonista, seduta su una sedia, non so se è legato, cosa, lui in quel momento, si rivela essere il cattivo, ha una pistola in mano, la sta puntando, contro questa donna, e non si sa cosa sta per succedere, è un momento proprio, il pubblico, si è nel fiato, quindi è tutto, perché è pieno di personaggi, in quel momento lì, c'è quel momento lì, perché succede in una, in un rifugio, in una baita, fuori c'è la neve, quindi sono isolati, ci sono dei personaggi, che si sono trovati lì strani, cioè strani perché, non strani, ma perché come mai sono tutti lì, sono stati convocati, c'è uno scopo, è interessante, momento clou, teatro, quindi personaggio, vivo, Silenzio, pistola puntata, in quel preciso momento, suona il telefonino, di qualcuno, dal pubblico, io non ho fatto apposta, non sono, come si dice, uscito dal personaggio, mi è venuto spontaneo, non ho cambiato atteggiamento, semplicemente la pistola, dalla tempia della tipa, l'ho girata lentamente, verso la platea, così, senza uscire dal personaggio, un applauso, un momento, e poi è venuto un applauso, che non ho mai avuto in vita mia, così, cioè sembrava che mi avesse fatto un favore, quello lì, perché avere un applauso, cioè sembrava un cubo di teatro, finito l'applauso, ho rigirato, e lo spettacolo è andato avanti, così, ecco, quello, diciamo che è un bel aneddoto, da raccontare ai figli, ma fortuna, devo dire, ho avuto molta fortuna nella vita, questo è un momento fortunato, complimenti all'angelo custode, un regalo, diciamo che sì, devi capire cosa fare, sì, è molto bello, è molto viva questa cosa qua, bene ragazzi, anche questa video intervista è giunta al termine, noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva, mi raccomando ragazzi, è essenziale, io ringrazio ancora Roberta Cornero, per me è stato un grande onore averlo ospite, questo Videogiochi Italia, l'abbiamo visto tutti, diciamo, nei panni di Guido Geller, in Camera Cafè, e non solo, insomma, lui è un volto molto noto qui in Italia, ha fatto tantissime serie, film, ultimamente ho visto anche un film che si chiama Il Nido, un horror in cui c'è anche Roberta Cornero, che ha un plot twist incredibile, ve lo consiglio, e niente, un saluto e alla prossima, ciao ragazzi!